Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit, questa è la puntata 177 e io sono come sempre Francesco. Tramite il form dei contatti del sito, uno dei vari modi che si possono usare per contattarmi, un ascoltatore mi ha chiesto un libro da leggere per poter configurare in modo corretto la propria rete di casa senza esporsi a rischi di sicurezza. La mia risposta è stata molto sincera in base alle mie conoscenze. Non credo che esista un libro o un manuale che spieghi come gestire la propria rete di casa perché i concetti che si toccano sono talmente tanti che è necessario leggere un intero trattato sulle reti per capire cosa toccare e come, tipo la famosa Bibbia di Tannenbaum, molto interessante ma un po' un mattonazzo. Ma devo ammettere che leggere la Bibbia per collegare due cavi di rete potrebbe essere un po' impegnativo, ovviamente gli ho offerto un'ora di consulenza a pagamento per dargli due dritte. Alcuni ascoltatori hanno usufruito di questo servizio e sono rimasti soddisfatti. Da questa richiesta nasce questa puntata. Non è una consulenza ma voglio darvi qualche dritta per fare un buon lavoro sulla rete di casa vostra in modo da renderla funzionale e sicura. L'interfaccia tra la rete di casa e internet e il router. Come l'interfaccia tra l'automobile e l'asfalto sono le gomme. Va scelto bene e va configurato con cura, sempre. Del router dovete avere le password e non devono essere quelle standard, quindi non lasciare admin admin o admin password vuota. Mettetene una e segnatevela. Siete a casa vostra? Potete anche, anatema, appiccicarla sotto al router, tanto non è un luogo pubblico. Ovviamente se il router del vostro ufficio dove ci lavora qualcuno oltre a voi, la password non va appiccicata sul router. Se il vostro gestore vi dà il router ma non le password, potete scegliere tra due opzioni. Vi fate dare i parametri e mettete il vostro router, sono obbligati a farlo, oppure mettete un vostro router a valle del router delle gesture. La seconda alza un po' la complessità della vostra rete. Beh, la terza opzione è cambiare il gestore. Comprate un router serio. Se costa meno di 80-90€ non è un router serio, rassegnatevi. Se comprate un Fritzbox andate sicuramente sul sicuro. Ci sono router di buon livello anche di marca Asus, Netgear, TP-Link. Se volete farvi del male c'è anche Microtech, ma eviterei se non siete esperti di reti. Collegate il router a internet e collegate il PC con un cavo di rete, non sulla wifi, con il cavo di rete. Adesso dovete capire qual è l'indirizzo del router. Se avete Windows, aprite il prompt dei comandi che trovate nel menu start e date il comando ipconfig. L'indirizzo del router è quello che vedete come gateway. Aprite il browser internet e inserite l'indirizzo del gateway nella barra degli indirizzi, tipicamente 192.168.1.1. Qui dovete fare alcune cose importanti. Ve le elenco punto per punto. Primo, come già anticipato, cambiate la password di accesso e mettetene una vostra. Segnatevela, è importante. Secondo, andate a cercare le impostazioni della LAN. Qui ovviamente non posso essere troppo preciso perché ogni router ha la sua configurazione e la sua interfaccia. E fate due modifiche importanti. Cambiate l'indirizzo del router che sarà nel 90% forse anche di più. Dei casi 192.168.1.1. Potete cambiare il terzo numero con un valore compreso tra 2 e 254. A vostra scelta. Potete anche mettere 0, ma io non ve lo consiglio. Questa cosa è necessaria perché così non avrete problemi quando vi collegherete alle reti del vostro ufficio in VPN per il telelavoro. Mi ringrazierete. Una volta salvata l'impostazione, facilmente dovrete riavviare il router. Una volta riavviato, mettete l'indirizzo nuovo nel browser internet. Accedete e continuate a fare le vostre modifiche. Andate nelle impostazioni del DHCP server e al posto di dire di assegnare tutti gli indirizzi dal 2 finale al 254 finale, impostate che gli indirizzi da assegnare saranno dal 100 al 254. Passate ora alle impostazioni della rete wifi. Ormai tutti i router hanno la rete A24 e 5 GHz. Non c'è una regola precisa. Potete mettere lo stesso nome a entrambe e i dispositivi scelgono loro a quale collegarsi, oppure mettere due nomi diversi. Per i nomi potete sbizzarirvi e mettere cose divertenti. Evitate cose del tipo cui si fanno test del 5G. Per una bravata del genere a qualcuno hanno dato fuoco alla casa. Se vi accorgete che alcuni dispositivi wifi perdono spesso la connessione, mettete i due nomi diversi. Impostate una password lunga, mnemonica, magari composta da 3-4 parole, ma lunga. Già che siete nella sezione wifi, guardate se il router supporta la rete per ospiti. Potete configurarla in modo tale che se avete amici a casa, potete dare loro quella e fare in modo che i loro dispositivi non accedano alla vostra rete. Questo ovviamente per quando ci saremmo liberati dal covid. È la stessa rete che potete dare al vicino di casa studente che deve fare dad da casa. Non date la vostra rete personale a nessuno mai. Vale la pena spegnere la wifi di notte se il router lo consente? Solo se non avete dispositivi smart in casa. Se la spegnete e avete una telecamera che fa da antifurto sulle finestre o il termostato, questi smetteranno di funzionare, quindi non è una buona idea. Andate a cercare se c'è la possibilità di accedere alla gestione del router dalla porta One. Se c'è ed è attiva, disattivatela. Nelle impostazioni andate a cercare il protocollo UPnP e disabilitatelo. Non va riabilitato neanche sotto minaccia. Adesso è il caso di andare a cercare le impostazioni di sicurezza e fare un backup delle configurazioni, scaricarlo e tenerlo in un posto sicuro. A questo punto potete usare la rete con una ragionevole tranquillità, collegando senza troppi problemi PC, telefoni stampanti e altri dispositivi, chiamiamoli normali. Ma ormai nelle reti di casa c'è la domotica e una serie di cose che dovremmo definire smart, oppure pericolose, oppure spione, a seconda dei vari casi. Rientrano in questa categoria tutte quelle cose che vi permettono in qualche modo di gestire la casa o avere servizi esterni, quali telecamere, sensori, assistenti vocali e via dicendo. In molti casi questi dispositivi si mettono in casa, si collegano alla wifi e fanno tutto quello che devono. In altri casi è bene che noi sappiamo che indirizzo IP hanno, o meglio, lo dobbiamo impostare noi a mano per evitare i casini in tempi successivi. Per questa cosa vi ho detto di fare in modo che l'assegnazione automatica fosse dall'indirizzo 100 in su, così se avete un po' di indirizzi da assegnare a mano che non sono assegnati dal router, così da non avere indirizzi duplicati sulla rete. Questi sono gli indirizzi dal finale 2 al 99. Quali sono i dispositivi che è bene che abbiano un indirizzo statico impostato da voi direttamente? Tutti quelli che prima o poi dovranno essere gestiti dalla loro interfaccia web. Tra questi dispositivi vi faccio qualche rapido esempio. Il NAS, le telecamere, il gateway di dispositivi tipo le lampade smart o le termovalvole, il dispositivo che usate per collegarvi in VPN a casa dall'esterno, il server che usate per home assistant o sul quale avete installato il vostro progetto homemade di domotica. Qualsiasi dispositivo per il quale dovete fare un po' forwarding dall'esterno, ne parliamo dopo. Per tutti questi dispositivi vi tenete un file con l'abbinamento dispositivo e indirizzo assegnato, così da non far casino. Nella stessa rete non ci possono essere due dispositivi con lo stesso indirizzo, mai, altrimenti sono casini, sempre. Altri dispositivi invece sarà più difficile andare a impostare un indirizzo statico, ma potrebbe essere comodo sapere che indirizzo hanno. Questa cosa si fa in modo abbastanza semplice. Si apre l'interfaccia del router e si cerca l'elenco dei dispositivi connessi. Si collega a quello nuovo e lo si vede comparire. Sempre sul router, a questo punto, si deve cercare la lista degli indirizzi riservati. Questa lista abbina l'indirizzo fisico della scheda di rete del dispositivo appena connesso, che è univo con il mondo, all'indirizzo IP e fa in modo che quando questo indirizzo fisico si presenterà al router, questo gli assegnerà sempre lo stesso indirizzo IP. L'indirizzo fisico si chiama MAC address e lo vedete dall'interfaccia del router. A questo punto ve lo assegnate. A cosa serve tutto questo sbattimento? Per esempio, se usate Home Assistant e volete comandare le lampade smart di Ikea, serve l'indirizzo IP del gateway ed è necessario che questo non cambi mai. Questo è l'unico modo. Per quel che riguarda gli accessi dall'esterno, per quanto io sostenga che non vada mai data la chiave di casa propria ad uno sconosciuto, nel router c'è sicuramente una sezione dedicata ai NAT o ai port forwarding o ai server di inoltre. A cosa servono queste configurazioni? Servono ad accettare le chiamate che provengono dall'esterno della propria rete e redirigerle al dispositivo corretto all'interno della propria rete. Per far funzionare queste cose è necessario che alcune regole e configurazioni siano rispettate. Come prima cosa è necessario che la propria connettività abbia un indirizzo IP pubblico. Questa cosa la potete verificare o chiedere al vostro gestore. Se l'IP pubblico è dinamico, come nel 95% dei casi nelle connessioni casalinghe, è necessario avere un servizio di DNS dinamico e averlo configurato. DAC DNS è gratis, è facile e funziona molto bene. Il dispositivo che deve essere raggiunto deve avere un IP statico e ovviamente lo dovete conoscere. Non fa differenza se lo avete configurato a mano oppure se avete fatto la prenotazione o reservation sul DHCP. L'ho nominato già troppe volte. Il DHCP sta per Dynamic Host Configuration Protocol. È il protocollo che una volta che un dispositivo viene acceso in rete si accorge di non avere un indirizzo e chiede, ehi, chi mi dà un indirizzo? Risponde e glielo assegna. Glielo assegna tra quelli disponibili nel suo pool, quindi del suo pacchetto di indirizzi che ha a disposizione. Vi ricordo che in ogni rete non ci possono essere indirizzi doppi, ve l'ho già detto, ma certe cose è bene che siano chiare in testa, molto chiare. Ma perché dovrebbe servire l'apertura dall'esterno di una porta verso l'interno della rete? La cosa potrebbe essere pericolosa, ve lo assicuro. Serve se dovete rendere disponibile un server per giocare online con i vostri amici. Oppure se dovete usare Torrent o Emule, che vi ricordo sono protocolli peer-to-peer legali, quello che passa sopra potrebbe essere illegale. Per evitare di sovraccaricare i server di Ubuntu, ad esempio, si può scaricare l'immagine di installazione via Torrent. O ancora, se dovete collegarvi via VPN a casa vostra per gestire i vostri dispositivi. Io lo uso per collegarmi al server dove ho la mia gestione della domotica, per vedere le telecamere, per monitorare le temperature e i consumi elettrici. Tutte cose che non dipendono dal cloud e quindi si possono vedere solo dalla rete di casa mia. Cosa non deve essere esposto in questo modo? Evitate assolutamente di esporre le porte di condivisione cartelle del NAS, le porte VNC, le porte RDP dei vostri PC, la porta dell'interfaccia web della videocamera. Per queste cose usate una VPN per collegarvi a casa e da questa usufruite dei vari servizi. Chiudo questa interminabile puntata, vi ricordo che la potete anche leggere sul sito per eventuali appunti futuri, con alcune note rapide valide per una rete di casa semplice e senza configurazioni particolari. Se avete un ufficio, queste rapide note potrebbero essere non sufficienti o addirittura non valide. In una rete ci deve essere un solo router e un solo DHCP server. Se dovete estendere la copertura della rete wifi usate degli access point e non dei vecchi router. La rete cablata col cavo è sempre meglio della rete wifi, non scordatelo mai. In certi casi persino le powerline sono meglio della wifi ma solo se sono sotto lo stesso contatore. A me vanno anche da casa fino in cantina con 5 piani di distanza. Se dovete mettere più porte usate degli switch e non dei vecchi hub che avete trovato in una vecchia scatola. Prendeteli 100.000, costano poco ormai, bastano quelli non gestiti di una marca qualsiasi. Non create anelli tra switch e router, fate solo collegamenti ad albero. Se dal router andate prima sullo switch A e poi sullo switch B, dallo switch B non tornate più sul router. Se fate così collassa tutto e non funziona più niente. Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato su pilodeibit col punto prima dell'it. Ho stato da 3dai, se volete mettere anche voi lì il vostro sito scrivete a domini-3dai.it, io ve lo consiglio. Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti. Mi trovate su twitter con l'account pilodeibit o il mio personale cesco underscore 78. Invece per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail pilodeibit.gmail.com. La community la trovate sul nuovo forum extra.pilodeibit col punto prima dell'it slash forum o su gruppo telegram. Io personalmente preferisco il forum. Se il podcast vi piace potete pensare a una donazione singola o a un abbonamento con importo a scelta. Tutte le istruzioni sono sul sito. Potete persino donare senza spendere usando i link sponsorizzati di Amazon che trovate qua e là sul sito. Si può anche sponsorizzare una puntata di pilodeibit per intero. Le informazioni sono sulla pagina pilodeibit col punto prima dell'it slash sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o qualunque altra cosa tutto fatturato potete informarvi su iltucci.com slash consulenza. Pilodeibit è diventato un network di podcast. Ce ne sono ben tre. Il primo è quello che state ascoltando, Pilodeibit, un podcast di tecnologia breve alla portata di tutti. Poi c'è Pilodeibit, sempre con la mia voce, puntate brevi, videogiochi vecchiotti, economici e semplici, alla portata di tutti. Anche la mia, che ho la reattività di un brano tipo assonato con un solo dito. Lo trovate su Pilodeibit col punto prima dell'it slash pdv, Pilodeibit.it. L'ultimo nato, almeno temporalmente, è Pilodeibit dove io e Giuliano parliamo di cose un po' più nerd perché si vuole sporcare le mani e comprare qualche schedina per passare qualche notte in bianco a imparare un po' di santi per far funzionare qualche progetto. Lo trovate su extra.pilodeidibit col punto prima dell'it slash pdg, pilole di gic. E sempre per un pubblico ampio, non parliamo di cose troppo difficili e per chi ha problemi siamo disponibili a darvi una mano sul forum. Io, fossi in voi, proverei ad ascoltare qualche puntata. Per ora la numero uno. Se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio, dovete ringraziare Alex Racuglia che con il suo fantastico producer per Mac OS mi risparmia ore e ore di lavoro di montaggio. Grazie Alex. Se il tip scorso era per Windows, questo è per chi usa Linux e a volte è un po' impacciato con la riga comandi, comunemente detta shell. Vi ricordo che se usate Linux e non usate la shell, non state usando Linux. I comandi sono moltissimi e ogni comando ha decine e decine di opzioni per poter fare delle cose molto specifiche. Per sapere cosa fa un determinato comando basta anteporre allo stesso il comando man. Questo vi fa vedere il manuale del comando che vi interessa. Ma c'è un sito bellissimo, il cui link sta sempre nelle note dell'episodio, che dato un comando vi spiega per filo e per segno cosa succede con tutte le opzioni aggiunte allo stesso, con una grafica chiara e pulita. Si chiama explainshell.com. Usatelo anche quando chiedete un consiglio a qualcuno e quel qualcuno vi manda un comando. Se non sapete che fa, mettetelo lì, così non fate la figura del fesso che al posto di riavviare un servizio cancella tutto il pc. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina, ma non il prossimo lunedì. Per motivi personali quella puntata salterà, mi scuso, già ora in anticipo, ci si rascolta tra due settimane in uno studio diverso e presumibilmente con un audio tutto diverso, spero non peggio di quello al quale siete abituati. Ci sentiamo alla prossima, ciao!